Telegramma, con tutte le informazioni, com'è fatto ad arrivare in ritardo? Eh, eh, sul telegramma c'era scritto Andare a destra, stop Andare a sinistra, stop Andare dritto, stop Allo stop, stop Telegramma Questa la cancelliamo Questa la cancelliamo proprio Questa è brutta, eh? Dove siamo arrivati qua? Vediamo se con la prossima ti riprendi, vai Ecco Ehi, Jin Eh, lo sai che... Di notte io non riesco a dormire Soffro di insonnia? Sì, soffro di insonnia Hai provato a contare pecore? Sì, ma ne manca sempre una Ma sai, burio, ultimamente dormo male, male Ah, sì? Sì, soffro di insonnia Anche tu, anche tu? Sì, sì, sì Hai provato a contare le pecore? Eh, ma me ne avanzo sempre una Ecco dove è andata a finire Pecorella maledetta La pecora maledetta Incredibile Questa è brutta, eh? Sì Però male che tiriamo su con la prossima Ecco Comunque, oh Ieri sono stato nel nostro vecchio quartiere No, non puoi capire Dove c'era il giornalaio c'era l'alimentare Dove c'era l'alimentare c'è il giornalaio Dove c'era il centro commerciale Adesso c'è il fioraio E dove c'era il fioraio C'era il centro commerciale Hai cambiato tutto? No, è che ho fatto la strada al contrario Ma non mi sono accorto dopo Purtroppo No, non mi sono accorto La prossima è la mia preferita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti